Lei è Micaela Di Gennaro, 25enne coratina di cui 17 trascorsi sui campi di basket, 4 anni fa poi la svolta si avvicina al bodybuilding e rimane coinvolta da una disciplina in crescita non solo in Puglia ma anche a livello nazionale. Mi ero appena iscritta all'università e quindi non potevo essere frequente negli allenamenti, essere costante, soprattutto perché naturalmente c'erano degli orari da seguire. Quindi decisi per mantenermi in forma, di scrivermi in palestra laddove potevo essere libera di scegliere quando andare, solo per questo motivo, ma comunque il basket mi ha dato tanto sia a livello agonistico ma anche a livello proprio umano. Quindi decisi di scrivermi in palestra e da lì poi ho conosciuto persone che mi hanno quasi sostenuta a fare questa disciplina perché comunque i risultati arrivavano e quindi mi sono appassionata in questo modo. Ha vinto tantissimo in Italia, ben 10 gare può vantare cose egregie anche in appuntamenti internazionali, un terzo posto a Milano, un quarto posto eccellente a Barcellona in una prova del prestigioso Arnold Classic e poi storia recentissima la vittoria in Austria a pochi chilometri da Vienna in una tappa del circuito Diamond Cup. Diciamo che era inaspettata perché l'ultima gara che ho fatto in Italia mi ha leggermente deluso avendo avuto un secondo posto e quindi sono andata semplicemente con la voglia diciamo di riscatto e su 11 ragazze sono riuscita ad arrivare prima, non me l'aspettavo e quindi è stata comunque una gioia immensa. Diventare una campionessa di bodybuilding comporta inevitabilmente dei sacrifici che per Michaela Di Gennaro sono stati abbondantemente compensati dai risultati. Il bodybuilding non è uno sport, è una disciplina perché richiede dedizione non solo nella pratica sportiva, cioè nell'allenamento, ma anche a casa perché richiede naturalmente di seguire una determinata alimentazione, una giusta integrazione e soprattutto anche di riposare, cioè di non avere una vita molto frenetica perché naturalmente il fisico ne risentirebbe. Qui è fondamentale la dieta quasi più dell'allenamento e poi c'è l'allenamento che soprattutto pre-gara comporta un grosso sacrificio perché bisogna allenarsi almeno un'ora e mezza, due ore al giorno per tutti i giorni. Il bodybuilding non è uno sport, i suoi protagonisti non possono aspirare a partecipare alle Olimpiadi, il grande obiettivo di ogni atleta a livello agonistico, ma i sogni nel cassetto non mancano di certo. Il primo sogno nel cassetto è fare la prima gara perché la si vede come una cosa irraggiungibile, quindi nel momento in cui tu sali sul palco e la prima volta già hai realizzato un grosso sogno. Adesso ho un obiettivo, potremmo dire anche molto importante, che è l'europeo. Il campionato europeo naturalmente prevede la partecipazione delle migliori atlete in Europa e quindi sarà un'esperienza molto impegnativa a maggio. Il campionato europeo naturalmente prevede la partecipazione delle migliori atlete in Europa